In provincia Pescara gli studenti del liceo classico D'Annunzio hanno incontrato Giovanni Impastato, fratello di Peppino, giornalista e attivista ucciso dalla mafia nel 1978. Giovanni Impastato, che ha raccolto l'eredità del fratello, ha parlato di temi quali legalità e necessità di combattere la mafia e ogni altra forma di sopruso. Nicola Palombaro, che è presidente provinciale Ampi Pescara, come nasce l'evento di oggi? L'evento di oggi fa parte di un progetto molto più ampio a livello nazionale che si chiama I fiori della memoria, che nasce grazie alla casa memoria Felice Peppino Impastato e la compagnia dei merli bianchi di Giulia Nova. Noi come Ampi abbiamo, visto che abbiamo la memoria come chiodo fisso, mettiamola così, abbiamo pensato di coinvolgere le scuole in questo progetto perché in realtà lo scopo è fare memoria attiva. Si, si parte dalla figura di Peppino che è stato ammazzato dalla mafia nel 1978, un attivista, ha sempre combattuto la mafia e le ingiustizie in senso lato e nasce anche dalla figura di Felicia, della mamma, che ha combattuto perché la verità potesse essere affermata in ogni sede per quanto riguarda il figlio perché fu sostanzialmente accusato di essere terrorista e che si era suicidato. Giovanni Impastato, qui a Pescara, per parlare soprattutto ai giovani, lei ha raccolto l'eredità di suo fratello e non solo, anche di sua madre. Sì, sicuramente raccogliere l'eredità significa trasmettere soprattutto anche il messaggio di Peppino che non è soltanto un messaggio politico, di impegno civile, di lotta, ma è un messaggio educativo per i giovani perché i giovani hanno tanto bisogno di queste storie, perché sono delle storie esemplari, delle storie che loro possono acquisire il meglio per cercare sicuramente di portare avanti il loro impegno nel tentativo di costruire un paese migliore. Intanto domani ne presiede la scuola dell'infanzia di Santa Teresa. Grazie al comune di Spoltore sarà inaugurata la via intitolata A Peppino Impastato. Nel pomeriggio alle 17 al teatro Gianni Cordova di Pescara sarà presentato il libro Mio fratello, tutta una vita con Peppino.